volevo farvi sentire brevemente quello che è successo ieri un attimo di surrealtà di dadaismo televisivo di meta tv di iper reali di futurismo forse televisivo perché chi ha visto ieri scanalando bianca berlinguer su rai 3 e mario giordano su rete 4 ha scoperto l'ubiquità del professor massimo galli il professor massimo galli era contemporaneamente in due tv voi direte e come hanno fatto evidentemente uno dei due credo mario giordano l'ha registrato ma è stato mandato in onda contemporaneamente su due programmi televisivi quindi non so uno andava su tg3 bianca berlinguer lo salutava no buonasera al professor massimo galli bentornato qui da noi a carta bianca buonasera a tutti ma se girava contemporaneamente su rete 4 mario giordano lo salutava caro professore lei ha più volte denunciato in vita buonasera buonasera va bene quindi contemporaneamente il professor massimo galli e a questo punto a questo punto dopo un po di essi di sì caro alpino puoi far ascoltare quando ti pare interrompendo la musica la risposta chiara contemporanea del professor galli ieri in tv purtroppo mi auguro che ci si riesca ad organizzare certamente siamo un paese dal punto di vista organizzativo è un evento atteso quando il numero di matti raggiunge vecchio e soprattutto il numero di matti ospedalizzati chi ha una quantità di problemi per quanto riguarda la medicina territoriale mi sembra esplicativo del momento un po' come dire infopandemico che stiamo vivendo ci dovevamo attendere tra quelli indietro in classifica per quanto riguarda le vaccinazioni questa trasmissione è in diretta dicono che abbiamo canale come dice la poesia triste il paese che c'è bisogno di eroi mettiamo il 4 posizioni non a questa in diretta dichiarazioni non veritiere di questo tipo quel che ritengo che ci posso oppure questo con una ragionevole certezza se il vaccino è oppure in dialetta questa qua efficace che poi sia 10 di base che si muovono per andare a a cercare di visitarli dargli quello che serve di procurargli queste bombole per l'ossigeno che soprattutto in campagna è diventato magari è anche qua un effetto molto è facile che ci sia anche qui io credo che vi saranno tutte in diretta l'azione alla realtà però ritengo rimango ottimista e a domanda se me li farei questi vaccini la risposta è credo proprio di sì vediamo questo qua quindi praticamente apre e richiude perché si tratta di 10 giorni più o meno ecco lì perché se a nostro è un paese in cui insomma le lentezze burocratiche talvolta le efficienze dei comitati etici sono quel che sono voglio dire per cui abbiamo subito dei ritardi anche importanti per numerose sperimentazioni ahimè sì mi sembra veramente una pessima idea è così uno slogan politico una presa di posizione che ha soltanto quel tipo di significato e niente altro niente a curare ma su questi tre lei un'applicio su quale lo mette su quale dei tre la mette se dove servisse 100 euro su quale li mette dei tre dove sono le garanzie reali non a chiacchiere sulle strutture scolastiche sulle caratteristiche delle stesse sulle caratteristiche sono quelli vettorali che usano un virus non in grado di replicare come vettore che si sono già dimostrati efficaci in altra questione venga preso per un periodo per lavorarci sopra e non per far vacanza vale la pena di riconsiderare tutto per gennaio comunque che non vengono in contatto ovviamente anche una persona suscettibile che non è immune non viene contagiata direttamente perché c'è uno scudo di persone che già la proteggono lei continua a pensare che sia necessario attenzione Giordano quel più 6 quel più 6 vuol dire più 6 posti occupati nonostante sia dubito che ne sia disponibile nemmeno uno dalla fine del mese di gennaio ci hanno detto così che arrivavano 1.700.000 euro voglio dire voglio dire c'è la realtà e ci sono le dichiarazioni sono questa spegnere tutto grazie a tutti